Di Singal Papa Durante il consulato Q&A nel quale Bergoglio risponde alle domande dei giornalisti e da delle spintarelle alle già traballanti giunte romane neanche fossero torri di genga tirate su da ubriachi Papa Francesco ha risposto alle ovvie domande susseguenti le sue affermazioni sul nemico dei nemici distruttore di famiglie, generatore di fantastici memes il gender Ora, più di un anno fa ho dedicato un video intero a sta roba del gender se volete potete cercarlo, è ancora online io non ve lo unico nemmeno perché ho provato a riguardarlo e mi sanguinavano le orecchie, ok? faticavo a seguire per i troppi tagli a caso quindi, per chi mi seguisse da tanto tempo innanzitutto prendete le mie stimate auricoari come un ringraziamento non so come abbiate fatto per gli altri, spiegone non c'è nessuna teoria del gender anche se lo dice il Papa la teoria del gender o ideologia gender o complotto del gender ma nessuno lo chiama più così perché sennò fa brutto e le persone non ti prendono sul serio mentre digiti furiosamente sulla tua tastiera che il mondo è ormai degradato esistava meglio prima quando non c'era gender e i gay non esistevano nella vita reale ma soltanto nei film e indossavano sempre le hawaiane ed erano la spalla comica di qualche personaggio che era così tollerante da avere l'amico frocio che fa le vocine e far ridere è l'idea che nelle scuole entità malvagie contagiano il gay virus ai vostri figli confondendoli sui ruoli sociali quindi convincendoli che un bambino possa fare cose da femmina come cucinare e prendersi cura dei figli e le bambine possono fare cose da maschi come ad esempio guidare un camion oh nooo sfortunatamente questo panico del gender dopo essere stato cavalcato da partiti e movimenti vari facendo pasticci su una serie di studi scientifici che si chiamano gender studies che si traduce in studi di genere non necronomicon si è molto sgonfiato ma ora il papa lo ha reso di nuovo fresh parlando di un genitore francese il quale figlio di 10 anni dopo che gli avrebbero insegnato a scuola avrebbe risposto la ragazza alla classica domanda del cosa vuoi fare da grande ecco innanzitutto io se fossi questo padre sarei contento visto che i miei nipoti della stessa età da grandi vogliono fare gli youtubers ed è quindi palese che la chiesa non abbia una chiara visione di cosa condurrà l'occidente al suo effettivo declino non la pansessualità non l'islam a completare il degrado sarà la water bottle challenge trovo senz'altro ipocrita per il più alto rappresentante della chiesa a parlare di colonizzazione ideologica specie considerando che nessun libro si insegna in realtà ai bambini ad essere bambine semplicemente si cerca di creare una società nella quale non si inizino a mettere etichette in tenere età creando questa divisione magica che relega le donne in cucina e gli uomini sul trattore e soprattutto cercando di fare chiarezza tra sesso quindi ho il pene non ce l'ho preferenze sessuali quindi a quel pene succede qualcosa quando vedo tette o quando vedo muscoli o quando vedo alberto angela sulis parlare di impero romano e non posso farci niente le preferenze sessuali sono innate e finalmente lo si è capito e genere auto percepito quindi mi sento uomo e mi sento donna che è una cosa ancora diversa da quello che piace il punto è è complicato c'è gente che studia ste robe dire Dio maschio e femmina li creò è riduttivo basta accettare tutti e punto sapete chi lo ha detto che bisogna accettare tutti? il papa questo papa mentre parlava di sta roba plot twist durante la stessa intervista Francesco è stato super progressista in un certo senso per quanto progressista possa essere un papa parlando dell'accettare tutti sempre e di accompagnare qualsiasi tipo di persona a prescindere dalle sue scelte quindi che sia gay che non lo sia che abbia cambiato sesso che una volta abbia guardato la gabbia qualsiasi sia il peccato in termini religiosi è importante la cura la misericordia e accompagnarle in un percorso che prevede l'integrazione parole del papa eh com'è che nessuno le sta riportando queste qua? perché è la parte più importante in effetti quindi plot twist nel senso il gender tuttora non esiste non esiste nessun complotto del gender e sia chiaro ma capisco perché questo discorso venga portato avanti e comunque devo ritirare il dissing al papa l'ho detto solo per confondervi vi ho mentito se volete ma d'altra parte non è quello che facciamo tutti qua sull'internet la cosa fantastica di tutto questo discorso è che tutta la parte sulla tolleranza sarà dimenticata e si useranno le parole del papa per rinfrescare questo continuo a dare addosso a una minoranza di italiani nel nome del qualcuno pensi ai bambini parlando di altre cose interessanti che in un modo o nell'altro hanno a che fare con la fede e mi riferisco alla gentaglia di fede davvero i cristiani immagino siete la maggior parte no? non ne ho idea dovete fare qualcosa per la brigliadori tipo subito seriamente adesso saremo costretti a pensare che anche voi ve ne andiate in giro per il paese vestiti come una sorta di galadri e dei poveri in scarpe e ballerine bianche con un bastoncino tutti attrezzati e pettinati per curare il cancro Eleonora Brigliadori modella e presentatrice classe 1980 è la tizia cacciata mesi fa dal Maurizio Costanzo Show dopo che assieme a Red Ronny vi ricordate? parlavano di una scienza oltre la scienza Nadia Toffa delle Iene è andata ad intervistarla dopo aver scoperto che questa persona anche facendosi forte della sua notorietà apparentemente richiederebbe pagamenti in nero per curare la gente con degli incantesimi ad area di qualche tipo con delle vocazioni spingendo le persone a non sottoporsi alla chemioterapia cosa che permette ai tumori di propagarsi e di causare molte più vittime del normale quindi far ridere ma anche no tre cose uno guardate il servizio volo linko è molto facile dimenticarsi che si sta parlando di una cosa serissima come il cancro a causa delle robe che vengono mostrate fuori di te non ho parole non ho parole due se fa per una volta smettiamola di fare il discorso pro e contro le Iene sì nemmeno io in molti casi ho avuto simpatia per il programma avevo anche fatto il possibile anni fa nel mio piccolo per portare attenzione su una campagna del gruppo protest se non sbaglio a favore della sperimentazione animale che lamentava le faziosità con la quale erano stati condotti dei servizi sull'argomento però non è che ogni cosa che avviene alle Iene è brutta adesso sennò è come dire tutto ciò che in tv al cinema o su youtube è una merda è un discorso generico è un discorso stupido su youtube ci sono ad esempio i miei video molto validi o quella roba di apple pen pineapple pen quella roba lì oppure no basta così credo tre è un po' da stronzi portare avanti il discorso che fanno in tanti che più o meno fa ti fidi di qualcuno che ti propone una cura per un male che ti affligge e tu ci caschi darwin awards yeee come sono frizzi frizzi a dire darwin awards nope non è così che funziona non possedere un'istruzione essere ingenui e soprattutto essere disperati perché non si vuole morire o non si vuole che un proprio caro muoia e per questo non essere in grado di prendere lucidamente delle decisioni non è una colpa è anzi spesso parte della vita e credo dovremmo essere molto moltissimo più tolleranti nei confronti di chi si aggrappa una speranza e molto meno tolleranti nei confronti di chi si approfitta di queste persone essere dalla parte dei più deboli è un segno di forza non di debolezza e allo stesso modo fare i cinici non ci rende più forti è soltanto un modo che abbiamo di non uscire in balcone per paura che ci piova in testa venerdì c'è stato poi l'attesissimo scontro tra Renzi e Zagrebelski alcuni di voi mi hanno chiesto di dirvi cosa ne pensassi e credo di non aver molto altro da dire più di quanto non abbia già twittato durante l'incontro che io ho trovato peraltro molto corretto da ambo le parti sì, Renzi alle volte è stato un po' strafottente e Zagrebelski è salito in cattedra per la maggior parte del tempo che è un comportamento altrettanto fastidioso ma rispetto a quello che siamo abituati a vedere sul palcoscenico politico italiano è stato un incontro da signori per quanto mi riguarda quindi chi ha vinto? ha vinto Renzi con buona pace dei pazzi che durante l'intera trasmissione invece di ascoltare stavano sui social a insultare chi la pensava differentemente da loro tipo me ci arriviamo tra un attimo Renzi secondo me ovviamente ha avuto una miglior comunicazione è stato più dinamico trovo non sia vero che non sia entrato nel dettaglio delle cose e questo per il semplice fatto che di nuovo lo ripeto dopo averlo già detto nel video dedicato alla riforma costituzionale non è una questione di capire dove sia la verità se nel sì o nel no non c'è una verità è una questione di interpretazione del punto di equilibrio di capire cosa si voglia per il futuro del paese la sola idea che ci sia un fronte a favore di ciò che è giusto e uno che contro tutto quello che è bello e sano sottolinea come gli italiani non riescano a maturare è sempre tutta una grande partita di calcio a tal proposito ho trovato particolarmente fastidioso un articolo di Padellaro sul Fatto Quotidiano nel quale si dice che la gente non ha il coraggio di dire che voterà sì non è il vostro caso le discussioni tra noi sono sempre fantastiche interessanti le leggo sempre nessuna caccia alle streghe ci mancherebbe ma la caccia alle streghe sul web specialmente c'è e anche fuori dal web e il fatto che la gente non dica che voterà sì come non affermava di votare per Berlusconi dice l'articolo o per la democrazia cristiana e così via non è perché gli italiani hanno in realtà degli interessi nascosti che vogliono proteggere e quindi per una virita hanno votato il cavaliere di nascosto è perché con gli atteggiamenti aggressivi non fai cambiare idea alla gente semplicemente la spaventi e oltre a rafforzarla nelle sue convinzioni al massimo ti fai dire delle balle non lo so non so cosa voterò forse voterò no non farmi del male questa parte è parte del video ma è in realtà anche dedicata a un sacco di persone che mi hanno scritto questa cosa del chi vota sì è traditore della patria come chi vota PD è colluso con la mafia chi vota destra è coglione non capisce niente e via così non è un modo intelligente di discutere perché non è discutere è quello che la sinistra ha fatto per una vita invece di rendersi il più possibile competitiva nella sua corsa contro Berlusconi demonizzava chi lo votava liquidandone gli elettori come dei coglioni e Forza Italia vinceva e stravinceva mi sembra incredibile che si applichino sempre gli stessi schemi prima di muoverci verso l'ultima cosa di oggi boom immagino che alcuni abbiano già annotato questa maglietta è uno dei nuovi oggetti che arriverà prestissimo su Hey Ya lunedì apriamo le porte pochissimo poi le richiudiamo subito faremo una sorta di mini lancio perché sono povero e produrre le cose costa del denaro ma ci tengo che alcuni di voi possano avere alcune delle magliette che stiamo preparando da un sacco di tempo questa è fantastica mi piace tantissimo non vedo allora che alcuni di voi le abbiano e moltissimi altri si lamentino di presso che ogni cosa sito prezzi gestire degli ordini non lo so disegni colori pioggia tutto sono pronto e per inciso si arriveranno delle magliette un pochino più economiche ma non troppo ci tengo che siano di alta qualità e non voglio buttarmi nel business delle tisciata 15 euro c'è già chi occupa quello spazio e non è quello che mi interessa mi va benissimo così ma ora boom l'ultima cosa di oggi è questo occhio alla Siria infatti abbiamo già detto che la tregua firmata tra Stati Uniti e Russia è fallita miseramente e in questi giorni è saltata fuori una discussione segreta registrata da non si sa bene chi tra John Kerry segretario di stato americano e un gruppo di civili siriani ai quali esprime tutta la sua frustrazione per la situazione nel paese affermando che mentre la sua di nazione è interessata a rispettare i diritti umani trattati internazionali e tutto il sistema messo in piedi dalle Nazioni Unite per evitare di fare eccessive cagate durante i conflitti la Russia non lo sia affatto e infatti la Russia non è mai stata particolarmente interessata a quello che nessuno pensa del suo operato specialmente Vladimir Putin che dai tempi della Cecenia ha sempre fatto un po' quello che ha voluto ha bombardato civili ospedali distrutto abitazioni ogni cosa potesse venirgli in mente per vincere i conflitti nei quali il suo paese era impegnato e al contempo scansando ogni accusa etichettandola come propaganda americana non che gli americani non abbiano fatto le loro cagate ma qui stiamo parlando di un altro periodo e di un'altra cosa allo statuatore delle cose è un casino vi lascio in descrizione un bell'articolo che ne traduce alcuni e li unisce con altri dalla BBC al Financial Times al Foglio il tutto sul post che fanno un lavorone che spiega quanto brutalmente sia peggiorata la situazione in Siria dopo il fallimento del cessate il fuoco e di come Putin e Assad o quello che rimane del governo siriano in realtà principalmente i russi siano diventati ancora più aggressivi nel bombardare Aleppo nel tentativo probabilmente di raterla completamente al suolo e annientare così ogni resistenza questo secondo molti analisti che non sarebbe peraltro la prima volta nella storia nel 2003 toco a Grozny non farebbe nient'altro che peggiorare il terrorismo invece di combatterlo e senz'altro peggiorerà i flussi dei migranti che arrivano in Europa questo comunque è tutto per oggi grazie per aver guardato gentaglia so che alcuni di voi si aspettavano una mia reazione al non raggiunto quorum in Ungheria nel referendum anti-migranti e la mia risposta è bene anzi benissimo e ora spero che l'Europa faccia qualcosa invece che dormire come al solito ti può prendere atto dal fatto che forse non tutto è perduto grazie mille ai due alfieri di oggi Federico e Federico che ci mandano questa foto direttamente da Siena se non sbaglio sono studenti di comunicazione e di lingue quindi grazie ragazzi grazie a tutti per essere arrivati fino a qui come al solito io sono Shota Heizu questo era Breaking Italy e ci vediamo domani alle 18